Un dossier di progetto di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità promosso dal Comune di Teramo è stato presentato questa mattina a Palazzo Melatino nel corso di una conferenza stampa convocata dal Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante. È un progetto importante perché avete trasferito anche delle competenze che avranno poi una rete nazionale? Assolutamente, questo è stato il nostro scopo, quello di creare una rete non solo locale ma nazionale quindi uno scambio di competenze tra gli uffici comunali, l'assessorato sociale e questa società che ha un'esperienza che riguarda non solo l'Italia ma anche l'Europa e che ha una percentuale di successi sulla finanziabilità dei progetti altissima. Riteniamo infatti che acquisire competenze per la progettualità in questo momento in cui i fondi del PNRR ci porranno in competizione con moltissimi territori purtroppo più abituati di noi a progettare, ecco sia veramente la chiave di volta per il nostro territorio. Il progetto prevede che all'interno del Parco Fluviale di Teramo siano attivati servizi specifici in un sistema di casette eco-efficienti previsto dal Master Plan di rigenerazione. Il conto economico realizzato a supporto dell'iniziativa può generare un'opportunità lavorativa per almeno 10 persone con disabilità. Sì, la valorizzazione del Parco Fluviale si caratterizza intanto per una valorizzazione di spazi importanti dedicati proprio all'inclusione sociale, in particolare le casette che abbiamo realizzato, una già inaugurata, l'altra in fase di definizione, saranno destinate proprio alla valorizzazione sociale ed ambientale con l'inclusione di tutte le associazioni, gli attori sociali del territorio. È un percorso che abbiamo già tracciato e pertanto si sposa perfettamente con un progetto più ampio che è quello che stiamo presentando oggi e per il quale stiamo collaborando con la Fondazione Tercas affinché possa essere ulteriormente potenziato un percorso che Teramo ha iniziato e proseguirà nel corso dei prossimi anni.